Il Teramo rimedia un'altra figuraccia lontano dal Bonolis e resuscita la Cavesa che vince 1-0 interrompendo la striscia di 10 sconfitte consecutive, pur rimanendo ultima in classifica e con un piede e mezzo in serie D. Paci vara il 3-5-2 dal primo minuto facendo tornare subito in campo Mungo come mezzala, Trasciani in difesa e Kappa come tutta fascia a sinistra. In avanti confermati invece Bombaggi e Pizzauti. Anche i blufonze cambiano modulo rispetto al solito, ma Iuri abbandona il 3-5-2 e vara il 4-3-3 con Senesi, Bubas e Gatto in avanti. Accade poco da una parte e dall'altra nel primo quarto d'ora di gioco. Il Teramo ha un paio di occasioni potenziali con Pizzauti e Mungo ma è Bubas al diciassettesimo su perfetta imbucata di Lancini a prendere alle spalle di Achite ed a far partire un mancino che Lewandowski riesce a respingere. La risposta ideale del Teramo arriva al ventesimo quando Kappa fa partire dalla sinistra un cross che Bombaggi spinge di testa al lato. La cavese però in palla e direttamente dagli sviluppi di un calcio d'angolo arriva al ventitreesimo il vantaggio dei padroni di casa. Dopo la deviazione di un compagno Matino è più rapido dei giocatori bianco-rossi in area piccola a toccare la sfera e metterla alle spalle di Lewandowski. Già negli istanti precedenti Arregoni e compagni avevano avuto qualche difficoltà nel leggere le marcature in area. Il Teramo accenda poi una blanda reazione. Arregoni ci prova da calcio di punizione trovando solo un calcio d'angolo mentre proprio da corner al 34esimo Trasciani e Diakite non trovano da posizione defilata la deviazione vincente per riportare il diavolo in parità. La formazione di Paci al 41esimo rischia addirittura anche di incassare il raddoppio. Da calcio di punizione sull'out di destra, Pompetti disegna la traiettoria giusta per sorprendere Lewandowski trovando però il palo a negargli il gol. Ad inizio ripresa Paci fa retromarcia vedendo un Teramo in difficoltà. Il tecnico manda in campo Chiere Matenga e Vitturini per Pinzauti e Trasciani e torna così al retroguardia 4 ed al consueto 4-4-2. Al sesto la prima occasione pericolosa per i biancorossi quando una palla di bombaggi deviata arriva a Mungo che però trova Kucic davanti a sé a respingere la conclusione. Il diavolo ritrova il modulo conosciuto ed anche la manovra sembra beneficiarne senza però riuscire a costruire qualcosa di importante. Al quarto d'ora episodio dubbio in area cavese con Chiere Matenga che prova ad insinuarsi tra Cucicce e Matino con i giocatori di casa che restano poi a terra. La cavese va di nuovo vicino al gol al ventesimo quando Bubas riceve in area ma col destro non riesce ad inquadrare in allungo lo specchio della porta. Costa Ferreira fa il suo ingresso in campo a posto di bombaggio al ventiduesimo e qualche minuto dopo fa partire un tiro a rientrare col destro che sfiora il palo. I blu fonzè sfiorano ancora la rete alla mezz'ora. Da un recupero palla Senesi si invola sulla destra e mette in mezzo per Bubas anticipato in maniera provvidenziale davanti la porta da Diachite. Due minuti dopo è ancora Diachite protagonista ma in fase avanzata. Vittorini raccoglie un calcio di punizione calciato male e serve il cross per il centrale difensivo ma di testa il Franco Magliano non trova lo specchio. Paci gioca anche le carte di Francesco e Gerbi al posto di K e Mungo. La Cavese stanca ed il Teramo spinge per cercare perlomeno il pareggio. Nel finale Chiere Mateng si scontra con Kucic in uscita e rimane a terra. Dopo qualche secondo di paura però l'attaccante si rialza e torna sul terreno di gioco per dare una mano nel recupero. Al cinquantesimo Marzupi e Kucic rischiano la frittata con Chiere Mateng pronto ad approfittarne ma la difesa della Cavese si salva in qualche modo. Il forcing finale tra diverse interruzioni porta la gara a giocare quasi nove minuti di recupero inutilmente per il Diavolo che incappa nel secondo K.O. di fila in trasferta dopo quello contro la Vibonese. Il Teramo resta ottavo in classifica ma è una sconfitta che potrebbe pesare molto quando la graduatoria sarà ridisegnata con i vari recuperi. Domenica prossima al Bonolis arriva il Bisceglie altra formazione in difficoltà dei risultati.